Nel cuore del centro storico di Castellabate, il salotto buono di Castellabate è la piazzetta 1123, l'antica agora del nucleo storico del borgo antico. Questa sera noi ci troviamo proprio in piazzetta con chi ha scelto Castellabate come Buen Retiro, come la sua seconda residenza, è una coppia di stranieri che viene dalla Danimarca e ci accompagna in questa intervista, in questo viaggio particolare, Mariella Boiano, che è la nostra interprete ufficiale questa sera, anche perché Mariella vive di promozione turistica insieme a noi, e quindi io le lascio il microfono per il primo intervento di questo incontro con Sorel e Elisabeth Lamp. Allora, buonasera a tutti, grazie mille Enrico per la presentazione, io ormai insomma diciamo un po' le persone mi conoscono, come diceva Enrico, io mi occupo molto di promozione turistica, in questa serata sono qui per fare un po' diciamo di assistenza linguistica ai nostri amici, Elisabeth e Sorel, i quali però gli farò dell'assistenza, ma loro sono qui da abbastanza tempo da potersi comunque esprimere, a parlare italiano, lo capiscono anche abbastanza bene, quindi in caso di necessità ci sarò io. Sorel, tu arrivi a Castellabate in che anno? 2004, 15 anni, abbastanza 15 anni fa. Come scegli Castellabate insieme alla tua compagna, insieme alla tua metà Elisabeth? Questa storia è lunga, 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 ma è una parola che chiama serendipity, e per fortuna, infatti è per fortuna. I nostri amici hanno trovato questo posto, e questo è a Natale, a Natale 2003, i nostri cognati sono stati a Castellabate, e chiamavano l'ispederia da Roma e dicono «Vieni, vieni, vieni a Castellabate». Dopo il capodanno, due giorni, abbiamo comprato la casa sopra di Piazzetta, Stella Polare. Quello che ti ha colpito di più di Castellabate, a parte il centro storico, quello che ti ha appassionato di più di questo paese, la tranquillità, la bellezza, che cosa ti ha colpito in primis di questo paese? «Un sacco di cose, l'agenda, l'agenda, la moglie, la spiaggia, la spiaggia, cibo, vino, ma... è un più grande... Noi tutto insieme, ma è un sentimento nel cuore». Lascio per gentile cavalleria il microfono a Mariella, perché porrà delle domande a Elisabeth, che è anche un personaggio particolare, è un personaggio che scruta l'animo, è un personaggio che studia l'individuo, perché lei è una psicologa e la conosciamo molto bene. Infatti, più delle volte vado in seduta da lei. Prego, Mariella. È carina questa cosa, e lei sia appunto una psicoterapeuta, una psicologa. Io non sono di questo posto. Mi intriga l'idea di chiederle la psicologia del posto, che cosa pensa delle persone di questo posto. Questa è una cosa molto bella che ha detto Elisabeth. Lei ritiene che questo posto sia veramente estremamente accogliente, e le persone sono bellissime, meravigliose. Infatti, loro hanno avuto un giovane ospite in Danimarca da loro per qualche mese ed è diventato quasi come un figlio. Per cui, questo è un po' il rapporto che si è creato, e di dare e avere ovviamente di grandi accoglienze anche quando loro vengono qui. Quindi, ritiene che le persone siano veramente molto carine, molto garbate. Le dicevo, è una cosa che a me piace moltissimo quello che ha detto, perché occupandomi da tanti anni anche di promozione, quello che noi cerchiamo di portare avanti è anche quella sensazione proprio di accoglienza. E il sentimento e la sensazione, cerchiamo di trasferirla agli operatori turistici stranieri dell'accoglienza. Quindi, la sensazione che si ha quando si viene qui di essere accolti come in una grande famiglia. È come essere in una grande famiglia, non è? Sì, è in una grande famiglia. Io voglio chiedere a Storrel, Castellabate ti aiuta a creare musica, a creare canzoni, a creare arte? Ancora? Is this still about helping you out in creating songs, creating music? Sì, infatti io, quando io andare in PG e nelle montagne, io forse, ma l'inspirazione è una cosa molto difficile. Non è, insomma, ma io piace, c'è due cose, è ispirazione e lavoro, duro, duro lavoro. L'inspirazione è un lavoro grande, grande. Ma ho scritto forse due o tre canzoni, i testi, sì, i testi in Castellabate. Anche perché a Castellabate io sono rilasso e tranquillo. Relax, sei rilassato. Un danese a Castellabate, questo è il titolo che noi abbiamo voluto dare questa sera a questo servizio, perché è quello che diceva Mariella, la cultura dell'accoglienza. Quello che ha detto Elisabeth è una cosa molto bella, perché loro ormai sono parte integrante del borgo. Quando Sorel esce la mattina dall'uscio del suo portone insieme a Elisabeth, Sorel, ciao Elisabeth, dove vai? Cosa fai? È vero? Sì, sì, è vero, è vero, sì. Hai creato i tuoi amici di Castellabate, con i quali a Natale, a Pasqua, scambiate gli auguri attraverso Facebook, tutto. Sì, sì. Avete mai pensato di trascorrere il resto della vostra vita qui a Castellabate, di rimanere sempre a Castellabate? Sì, adesso sicuramente, sicuramente. E in dieci anni forse in Castellabate tre, quattro, cinque mesi ogni anno. Ok, allora adesso un saluto per tutti gli amici di Cilento Channel da parte di Sorelamp. Saluto Cilento Channel. Salute a tutti. Cilento? Cilento. Channel. Channel. Salute a tutti, gente. Cilento? Cilento. Channel. Channel. Grazie a tutti per questa sera e soprattutto per i nostri ospiti. Ringraziamo Elisabeth e Sorel Lamp. Ormai Castellabate si doc, Mariella ha preso il suo impegno per il concerto e l'interpretazione live di Sorel qui in piazzetta che canterà Mi sono innamorato di te, di me e proprio noi, perché c'hai la tua bellissima donna. Grazie a tutti. Buona serata. Grazie. Grazie.